No, dicevo, pensi, sindaco, che si siederà magari, no, io riloggo, insomma, in una di queste poltrone che abbiamo alle spalle, noi siamo sopra, c'è questo Parlamento che ho avuto il piacere di frequentare per diversi anni, perché ero accreditato, allora c'era Isidoro Lottardo che era il presidente, per quanto riguarda le regioni rappresentate, io andavo a realizzare servizi proprio nel Parlamento, ed era un palazzo, insomma, l'Europa, che poi ha due palazzi, questo e poi c'è anche Strasburgo, dove ci sono le... ma prima parlavamo di flatuenze, che non è una battuta, è la verità, hanno imposto l'abbattimento con una percentuale altissima, perché dicono che le flatuenze, insomma, delle mucche creano non poco inquinamento. Però, se andiamo a vedere, la mia domanda può essere sciocca, ma quanto inquinamento percentualmente crea l'Europa? Perché qui si parla di cambiamento climatico, ci sono i cosiddetti ecoscemi, perché lo dico? Perché vanno a vannalizzare le opere, i quadri, le atto, non è una protesta quella, per me quella è vandalismo allo Stato puro, ma detto questo, d'accordo, decidiamo, case green, 80-90 mila euro per le case green, macchine elettriche, minimo 40-50 mila euro a macchina, poi quando si incendia, andate a spegnerla, è tutto quello che ci corre, aziende che chiudono, o cambiano il sistema per le auto, o chiudono la gente va a casa, è tutto quello che ci corre dietro. La mia domanda è semplice, ma percentualmente non arriviamo neanche allo zero e all'otti per cento, ma questo non avviene per gli Stati Uniti d'America? Potrei dire subito Cina, invece dico Stati Uniti d'America, India, Cina, forse anche Russia, per quel poco che ha, perché la Russia per quel pochissimo che ha, non esiste, e allora? Ma infatti questo è il paradosso dell'Europa, che è stata imbevuta, si è presa una sbornia con questo fondamentalismo ambientalista, integralismo ecologista, che sta producendo gli effetti economici estremamente pericolosi. Noi tutti vogliamo un mondo pulito, rispettoso dell'ambiente, rispettoso della natura, ma occorre un equilibrio tra uomo e natura, cioè questa ideologia green non può diventare l'alibi per mettere in ginocchio intere filiere produttive. Abbiamo visto i trattori di mezza Europa protestare e avevano ragione, ma è il rischio che colpisca anche il settore produttivo, perché? Perché le direttive europee non tengono conto della realtà dei fatti, a noi mancano due elementi decisivi, uno sono le materie prime e due sono i capitali, cioè ci impongono di raggiungere gli obiettivi costosissimi rispetto ai quali però non abbiamo i metalli per la produzione di batterie green, non abbiamo le terre rare per l'high tech e abbiamo un gap gigantesco rispetto alla Cina e all'Oriente in termini di produzione di materiali edili per l'afficentamento energetico, le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici, i motori elettrici, l'intelligenza artificiale, la componentistica elettronica. Servirebbero un mare di soldi per colmare questo gap e per raggiungere gli obiettivi che vuole l'Europa. Ma mi domando e le domando, ma secondo lei ragionevolmente noi riusciremo a raggiungere nel 2030 la diminuzione del 55% alle emissioni di CO2 o nel 2050 la neutralità climatica senza farsi del male? La risposta è no, non ce la faremo perché queste direttive sono completamente sconclusionate, cioè sono frutto di burocrati europei che non tengono conto dalla realtà dei singoli paesi. E allora va bene la macchina elettrica, va bene la pompa di calore, va bene ridurre le emissioni delle muche, però tutto questo è stato fatto seguendo i ritmi dei tempi del nostro sistema economico e non in base alle ideologie. L'Europa produce meno del 10%, forse il 7,5% dell'inquinamento globale, l'Italia meno dell'1%. E allora se anche noi raggiungessimo e avessimo le risorse e non ce le abbiamo, e oltretutto abbiamo dei vincoli finanziari spaventosi imposti dalla stessa Europa, se anche raggiungessimo quegli obiettivi e fossimo un paese pulitissimo, saremmo però dipendenti per materie prime, per prodotti finiti da quei paesi che invece quelle regole non le rispettano. Così di che l'Europa l'anno scorso ha diminuito il 7% l'emissione globale, però nel complesso, nel globo, sono aumentate il 7% perché noi compriamo i materiali della Cina che produce ancora magari a carbone. Quindi è un'autentica follia. Non cambia nulla dal punto di vista dell'inquinamento, ma cambia moltissimo nei rapporti di forze economici tra noi, che dobbiamo essere rigorosissimi, con disciplinari severissimi, e coloro i quali invece ci forniscono materie prime e prodotti finiti e non seguono queste regole. Mi sembra davvero una cosa incomprensibile. Senta, altra cosa, anche qui sono rimasto un attimino, c'è stata questa scuola piondato che ha deciso che il 10 aprile, quando il Ramadan si chiuderà, la scuola rimarrà chiusa. A me ha fatto sorridere, ma non perché o le scuole sono laiche, come dicono, ma mi viene da ridere perché se il presepio non vogliono farlo perché vai a offendere i bambini, se Gesù bambino diventa cucù perché vai a offendere i bambini musulmani, se le recite di Natale non puoi farle perché altrimenti, scusate, perché allora devono chiudere la scuola per la fine del Ramadan? Non danno qualche idea anche, non so, e non capiscono i bambini che hanno altre religioni. Allora arriveremo che, ma non lo chiederanno mai, no? La festa ebraica della Pesach, la Pasqua, è dal 20 aprile al 30 aprile. Cosa fanno? Il 30 aprile chiudiamo la scuola? Con i Sikh, con Geova, i testimoni di Geova hanno fatto la Pasqua. Cioè è una situazione paradossale, paradossale. E poi il Papa invece e lo stesso capo dello Stato si sono compiaciuti con questa scuola. Vuol dire una cosa, ma è laica o non è laica la scuola? Perché anche una volta la religione aveva una sola direttiva. Ora mi si dice che vanno ad insegnare i professori di religione prendendo in esame tutte le varie religioni. No, no, lei ha ragione, ha detto delle cose di assulto buonsenso. Io so che farò scatenare la sinistra. Non ho condiviso le parole del Capo dello Stato, che ha derubricato a un fatto di poco conto quanto è successo più oltello, ma gli esempi che l'ha citato sono appunto tantissimi. Perché? Perché è un gesto di arrandevolezza. E tutto è tranne che un atto di inclusione e di integrazione. L'integrazione si va venendo incontro. Se i ragazzi sono sfiniti... Come la maggioranza in una classe a maggioranza straniera. Ma certo, ma è giusto che Valditare cominci a pensare che c'è deve essere un tetto alla presenza di stranieri. Ora, ci può essere una scuola alla preponderanza di studenti musulmani? Ok, hanno fatto Ramadan e sono stanchi. Però questi ragazzi per lo poi andranno a lavorare. E quindi quando ci sarà Ramadan non andranno a lavorare? Bisogna fare un patto molto chiaro con i musulmani che vogliono vivere e stare qui in Italia. Cioè che deve esserci la compatibilità tra quello che è l'osservanza e la loro religione, ma quelle che sono le consitudini, le abitudini e le stili di vita occidentali nostri. Altrimenti non andiamo d'accordo e altrimenti non c'è inclusione, non c'è integrazione. Vede, è colpa nostra, è colpa di quelli che dicono ma no, va bene così. No, in realtà le società in cui nasce il germe del razzismo sono società sradicate, quelle che non riconoscono più la propria identità, le proprie tradizioni, il proprio sentire comune, le proprie regole, le proprie leggi. Perché invece i paesi che sono orgogliosi di appartenere ad una storia, ad una tradizione, ad una civiltà, ad una grande epopea culturale come l'Italia, sono paesi che non hanno paura delle altre culture e le possono assimilare più facilmente. Il principio deve essere riconoscimi e sarà riconosciuto, non mi riconosci, beh guarda siamo una democrazia talmente ampia che ti consentono anche di andare da un'altra parte. Perché l'ha detto Federico Rampini che è un uomo di sinistra molto lucido. Sto chiaro eh? Bravissimo, dice abbiamo raccontato che abbiamo bisogno di torme, di immigrati per consentire il nostro paese di andare avanti. Allora a parte che non è vero, servono invece quote piccole di immigrati. Ma va bene, la sinistra continua a dire che abbiamo bisogno di torme di immigrati, ma deve avere anche il coraggio di guardare negli occhi gli italiani e dire che tra 20-30 anni quando opereranno le finestre non sarà più l'Italia che conoscono adesso, sarà qualcosa di diverso. Ergo forse occorre meno buonismo e un pizzico più di realismo e pragmatismo anche nella gestione dei fenomeni migratori, a partire anche dal rispetto di queste regole. Ho trovato per quanto mi riguarda in un momento in cui forse bisogna badare più al sodo e pensare più ad argomenti consoni, anche difficoltà degli italiani, che si sia perso tempo in Consiglio Comunale per la cittadinanza culturale. Mi tolga sinceramente trovo, per me la cittadinanza è una. Te la meriti? Sei cittadino, ti sei integrato? Non faccio quello che fanno in America e negli altri stati che ti chiedono la Costituzione, lingua e via discorrendo. Guardi direttore, questo è un classico vezzo e capriccio della sinistra, che si interessa sempre di più di quelli che arrivano da lontano e magari si disinteressa completamente il vicino di casa che è in difficoltà. È un classico atteggiamento e profilo della sinistra. Ora, la cittadinanza culturale non serve perché al netto del fatto che tu non sei italiano e devi guadagnartela, è una conquista, è un percorso che deve portare ad essere cittadino italiano, è anche vero che non puoi darla a tutti, perché ci sono persone che qui vengono e vogliono contribuire alla crescita della comunità, ci sono altre persone che qui vengono e vogliono mantenere lo stile di vita e delle regole secondo me anche inaccettabili come quella di impedire ai propri figli di scegliere cosa studiare, dove andare, chi sposare, come vestirsi. E quindi è un discorso molto complicato, ma la sinistra vuole semplificare e banalizzare. Ma le dico di più, so che dico delle cose politicamente scorrette. Ma questo è un problema nostro italiano o è un problema dell'Europa? E' un problema anche dell'Europa, perché questo andazzo... E lo vediamo anche, no? Ma attraversa lo schieramento politico della sinistra europea, lo si vede. E io le dico appunto una cosa politicamente scorretta che dobbiamo dire anche l'Unione Europea, al netto di chi davvero scappa dalle persecuzioni, noi importiamo milioni di persone che nei loro paesi d'origine, ha detto Tony Capozzo recentemente, sono la borghesia africana e vengono qui in Europa non per scappare dalla fame, ma vengono attratti dal lucicchio del consumismo europeo che vedono in televisione. La città di Ben Godi, no? E' attratti anche dalla consistenza, dalla concretezza, dalle prebende che noi garantiamo tutti, anche gli irregolari. La casa, il mangiare, i vestiti, insomma tutta una serie di benefit che altrimenti non avrebbero. E questo non può continuare. La domanda è molto semplice, sa, e anche venerdì lì è stato detto che gli italiani continuano a non fare figli, diminuiscono. Poi vai a vedere dall'altra parte di chi abita qui in Italia e i figli ne sfornano a bizzeffe. O sono più bravi a farli o c'è qualcosa che non funziona. Però questa cosa rischia di cambiare perché sposterà la spesa sociale sul periodo di comune nei confronti di alcune famiglie, dimenticandosi magari degli altri. Magari qualcuno che aveva anche accumulato un diritto, vivendo in Italia, avendo contribuito alla sua crescita, a ricevere lo stesso identico. Ma questo cosa comporta? E lo dico perché è sotto gli occhi di tutti. Ci sono anche delle classifiche per avere le case popolari, lo sai meglio di me. E quelli che hanno più figli hanno diritto ad avere la casa popolare. E questa è la disparità poi alla fine. Noi l'Europa dovremmo dire che abbiamo bisogno di meno immigrati, abbiamo bisogno di privilegiare coloro i quali sono più facilmente integrabili, che quindi hanno una base culturale e religiosa più simile alla nostra. E abbiamo bisogno di importare immigrazioni di qualità, cioè quella che serve al sistema economico e produttivo per i prossimi 40-50 anni. Allora si creano le basi per la convivenza. Così si creano le basi per l'integrazione, per creare nuovi italiani. Più sicurezza, non ci sarebbe più morti in mezzo al mare e via discorrendo. Così bisogna agire. L'idea delle porte spalancate produce solamente l'illusione di arrivare qui e di avere un futuro. Ma quell'illusione diventa spesso disillusione che comporta che quell'uomo diventerà una persona povera economicamente, povera culturalmente e molto spesso anche maglie della criminalità. Ha citato l'Istat. L'Istat recentemente ha associato le violenze sessuali agli sbarchi, perché il 41% dei reati sono commessi dai migrati. Il 41% dei carcerati per reati sessuali è straniero. Un terzo dei carcerati italiani è straniero. Peccato che gli stranieri rappresentino meno del 10% della popolazione complessiva. Ergo, forse il buonismo va accantonato e va anche in questo caso approcciato al fenomeno con un sano realismo. E per quanto riguarda il mondo manifatturiero, il mondo industriale, anche qui l'Europa deve incominciare a capire che forse aver delegato altri stati, la Cina su tutti, ad operare per quanto riguarda il manifatturiero, alla fine ha dato le chiavi di casa alla Cina. Guardi, se prima parlavamo della protesta dei trattori, prima o poi arriverà anche la protesta dei muletti e degli imprenditori, per le ragioni che dicevo prima. Cioè bisogna uscire dalla logica ideologica e quindi se le cose confliggono con la realtà, tanto peggio per la realtà e iniziare invece a dire che questa ubriacatura green non serve e dobbiamo invece avere un approccio diverso, sostenendo con tantissimi soldi che gestisce l'Europa il nostro comparto economico. E invece qui andiamo avanti a direttive, continuo come quella sul packaging, che è incomprensibile. Io ho incontrato alcuni imprenditori dieci giorni fa, si sarà anche un convegno a Pordenone del non industriale, perché? Perché l'Europa, l'Italia è prima in Europa per il riciclo dei rifiuti e per la produzione delle coplastiche, però voleva imporre l'utilizzo della carta, perché? Perché i paesi nordici sono forti sulla carta e quindi vogliono penalizzare l'Italia. Non si può andare avanti così. Così come il raggiungimento degli obiettivi climatici, se non cambia il mondo in sé per sé, non ha senso dissanguare l'Europa dal punto di vista finanziario con soldi che non abbiamo. Considere che solamente la direttiva sulle case green batterebbe circa 300 miliardi di euro che non abbiamo come Italia, per raggiungere che cosa? Un obiettivo della diminuzione del 16% della CO2, ma dopo non avremmo. Le aziende che producono i materiali, non avremmo le dite, quindi andremo a finanziare economie diverse come quella cinese. È un'abriocatura che sta costando cara a noi, però c'è stato un segno secondo me di reciprocienza da parte degli europei. Tutto il movimento green ruotava attorno a un commissario con una Timmermans olandese. Timmermans è stato sonoramente sconfitto a casa sua, perché evidentemente gli imprenditori, le famiglie, le istituzioni del suo paese si sono accorti che è una cosa è predicare un mondo bellissimo, con la natura rispettata, che è giusto. Un altro è imporlo con delle regole, con dei disciplinari, con un percorso minato che porta a non essere sostenibile. La transizione ha un senso se sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale, altrimenti diventa un suicidio. Abbiamo ancora 5 minuti, poi c'è il break e poi ci salutiamo, ma avremo altre occasioni per stare con il sindaco. Il MES, la sanità sappiamo in che condizioni oggi è in Italia, condizioni drammatiche e il MES è bloccato, ci sono tutti gli altri paesi che attendono che l'Italia dica sì per poterlo ottenere loro, perché quando è un po' come all'ONU, basta che uno ponga il veto tutto cade. L'Italia non ha firmato, quindi il MES non è operativo in tutta Europa, ma perché no? Perché è un'arma, uso forse un termine proprio di ricatto, nel senso che la Meloni dice non è che io non firmo a prescindere, non firmo se tutte quelle condizioni di cui abbiamo parlato durante la trasmissione non vengono... Per non farlo al fine della Grecia, diciamo. Per non farlo al fine della Grecia, ma anche farlo al fine dei fessi. Io vengo in Europa non col cappello in mano, io non sono il fratello povero e non sono l'ultimo arrivato, sono un paese importante dell'Unione Europea, sono fondatore dell'Unione Europea, esigo e pretendo rispetto al pari degli altri paesi. Pensi a quello che è successo nel 2012, quando Francia e Germania hanno disarcionato Berlusconi per mettere Monti, per una ragione molto semplice, perché Berlusconi e Tremonti erano contrari all'utilizzo dei soldi di tutti per salvare le banche francesi e tedesche esposte con la Grecia. Allora Meloni dice io non sono disposta a prendere ceffoni dell'Europa, esigo che le direttive che hanno delle ricadute sulle case degli italiani, sugli allevamenti italiani, sulla filiera agricola, su quella manifatturiera e su quella industriale venga rispettata, esigo che ci siano regole finanziarie uguali per tutti che consentano lo sviluppo di un paese, non di metterlo in ginocchio come il patto di stabilità rischia di comportare per l'Italia. E quindi è giusto che in qualche maniera dica, Beto, no, non firmo. Se prima non vedo che giocate lealmente con me, io vi tengo sulla corda. Infatti lo spread salì a quel tempo a 500 erotti e quindi era obbligatorio il cambio, tanto per essere chiari. Hanno sperato in molti che lo spread salisse anche quando c'era la Meloni all'inizio, invece è calato di brutto. Cosa volete che fare? C'è una crema che vendono ultimamente, che si può usare anche a prezzi molto, molto, molto modici. Con una battuta, allora, l'andato del traditore, va bene, ma lei rimane comunque in seno al comune. Qualcuno ha tentato qualche giorno fa in regione di mettere quelle cartine strane per dire, no, chi va in Europa non può fare l'assessore. Ma siamo a livelli veramente, è un po' come il terzo mandato, no? Io lo dico anche al sindaco, il terzo mandato a me non me ne può, è il cittadino che vota, sì, il terzo mandato io lo farei per tutti, perché se alla Camera e al Senato hanno 743 mila mandati, non capisco per la regione, ma questa è una mia posizione. La domanda è, allora, Alberto Parigi è il sindaco, lei comunque continuerà a far parte della giunta, no? Se non altro per dare comunque un suo apporto. Guardi, la prima cosa che le dico è che io lezioni di coerenza e correttezza da parte del PD non le posso prendere perché lo studio del PD prevede che ci sia incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e consigliere comunale. Quindi magari prima di dare lezione l'attuale consigliere comunale regionale dia le dimissioni da una parte e dall'altra. Beh, a Magnago ce n'è un altro. E ce n'è anche un altro, quindi già questo dimostra che si è molto occhiuti, attenti a casa degli altri e poco a casa propria. La seconda, ci ho messo talmente tanto impegno, fatica e desiderio e volontà di costruire un progetto per la città che adesso sta prendendo corpo, magari con scelte che talvolta sono state anche poco comprese, che di sicuro non mollo la presa. È chiaro che non potrà essere più presente come prima, ma ho già garantito alla mia giunta e ai cittadini che io continuerò a seguire il comune. Anche perché in Europa non è che ci sia ogni giorno un parola. No, tra l'altro ci sono sindaci di comuni più piccoli dove non c'è l'incompatibilità che fanno i sindaci dei loro parlamentari o i senatori e i sindaci o gli assessori. Quindi continuerò a seguirlo perché? Perché voglio portare fino alla fine lo sforzo che ho fatto. 180 milioni di investimenti. Pensi che il Veneto l'altro giorno ha approvato il piano trinale delle opere pubbliche di tutto il Veneto e batte a 233 milioni per 5 milioni di abitanti. Noi in 50 mila abbiamo 180 milioni, di cui 130 recuperati con relazioni con lo Stato, con la Regione, con l'Europa. Gli altri PNRR, altro che come dice Salvador, sono finanziamenti dovuti a tutti. È una bugia inascoltabile. Bene, scuole nuove, strade nuove, strutture sociali nuove, impianti sportivi nuovi. E vuole che io non lo segua per vedere poi fiorire e realizzare questo progetto. Certo che continuerò a stare a Pordenone, sarò un po' a Bruxelles e poi quando vengo andrò in giunta. BK e poi rientriamo per i saluti.